Parliamo del Pug del Comune di Piacenza e lo facciamo con Laura Chiappa, Presidente di Legambiente Piacenza. Buon pomeriggio, benvenuta. Buongiorno a tutti voi e grazie. Questa mattina avete indetto una conferenza stampa assieme alle associazioni ambientaliste e alcuni comitati di quartiere per parlare proprio del Piano Urbanistico Generale. Avete una valutazione critica sul percorso partecipato in atto? Sì, oggi abbiamo presentato questo appello per un efficace percorso partecipato del Pug, lo hanno firmato 9 fra associazioni e comitati di Piacenza, fra cui Legambiente Italia Nostra, Comitato Parco delle Mura, La Cura del Bosco, Velo Lento e tanti comitati, perché noi riteniamo che il Pug, che è uno strumento urbanistico fondamentale per lo sviluppo della città nei prossimi 20 anni, non sia stato sufficientemente partecipato per il percorso di costruzione. Noi riteniamo che sia importante che l'amministrazione, la Giunta, ma anche tutta l'amministrazione di Piacenza, si confronti con i cittadini in un percorso diretto che può essere per temi, può essere per argomenti, può essere per parti di città, sull'idea di città che hanno nel futuro. Che cos'è che è mancato soprattutto? È mancato questo, ci sono stati tantissimi incontri che sono stati fatti dall'assessore Fantini, che sono assolutamente interessanti. Un primo incontro alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese del 25 febbraio 2023, ce lo ricordiamo molto bene, in cui è stato chiesto proprio ai partecipanti di esprimere le aspettative e le proposte sul Pug. Questo è stato l'unico incontro di confronto con i portatori di interesse. Non è seguito poi un altro incontro che potesse dare voce a quello che era avvenuto fuori e fornire poi una valutazione, cioè quello che l'amministrazione non ha fatto a nostro parere è un incontro, sono una serie di incontri con i cittadini per illustrare qual è la loro idea di città, qual è l'idea di città dei cittadini e da questo poi arrivare a fare una sintesi che giustamente deve fare l'amministrazione, ma tenendo conto di quello che la città pensa del futuro, penso alle aree verdi, penso al comparto nord della città, mentre invece tutta questa parte non è avvenuta, ci sono state delle interessantissime conferenze, delle belle visite anche di aree dismesse, tutto interessante ma è mancata la parte di confronto, tra l'altro che viene richiesta proprio specificatamente dalla legge, quindi quello che è l'appello finale che facciamo proprio è che ci sia una rettifica importante e decisiva di questo percorso partecipato in linea con la legge, ma anche con la volontà dei cittadini e quindi sul modello anche di altre esperienze delle città come Parma, Reggio Emilia, si concreti proprio un percorso che abbia delle caratteristiche specifiche, magari con il contributo di facilitatori, proprio per arrivare poi ad avere un piano che sia il più possibile condiviso. Di cosa ha bisogno soprattutto la città con questo nuovo piano? Beh, nuova mobilità, aumento delle aree verdi, certamente meno consumo di suolo, ma non soltanto, ovviamente ci vuole appunto anche un'attenzione particolare ai bisogni sociali dei cittadini, ma tutto questo può darsi che ci sia l'interno del Pug, ma per adesso non è stato esplicitato alla città, noi chiediamo che sia esplicitato. Laura Chiappa, Presidente di Lega Ambiente Piacenza, ospite di Radio Sam Piacenza 24. Grazie a voi.